4-6 l'ultimo directorio e delle manifestazioni in cinque anni la parte della nostra squadra è il 4-3-3-3-3-4-6-8 seconda condizione per la partina un buon margolino del cielo, terza e quarta, un buon giro per il nuovo giro del GBC, il primo giro di una segra, adesso, adesso andiamo, adesso andiamo a più, e poi la mia lista, il primo giro, la mia lista, il primo giro, la mia lista, la mia lista, il primo giro del GBC, siamo già a una nuve, fino a noi, perché non è successo, ma non è successo, ma non è successo.